Il modo migliore per rovinare, indebolire, farti erodere il tuo portafoglio clienti, come lo chiamavamo alla mia epoca, capitale relazionale, come viene invece chiamato adesso, è non avere i dati di contatto dei tuoi clienti. Cosa significa non avere i dati di contatto dei tuoi clienti? Significa che non puoi comunicare con loro quando non sono presenti fisicamente nella tua attività. Se invece tu hai nome, cognome, mail, numero di telefono e non sarebbe male anche la data di compleanno, puoi veramente cominciare a fare delle cosine veramente importanti. Puoi telefonare per organizzare, se hai un ristorante, una serata particolare. Se hai un negozio di fiori per la festa della mamma, puoi telefonare con la scusa di dare i fiori migliori ai tuoi clienti più fedeli. Puoi davvero fare anche dei messaggi in Whatsapp e fare offerte ad esaurimento per attirare di nuovo in negozio queste persone a vedere cosa è arrivato. Puoi fare gli auguri di compleanno, pensa te, che a queste delicatezze ormai non ci pensa più nessuno. Gli auguri di compleanno, prova a pensarci, se non ti farebbe piacere. Puoi anche fare delle mail, avvertendo i tuoi clienti che è arrivata l'ultima collezione e che ci terresti a far sì che sia lui o lei a vederla per primo e ad avere la possibilità prima che la collezione si esaurisca o che invece sia aperta a tutti. Vuoi dare una priorità assoluta ai tuoi migliori clienti. Riesci a capire quante possibilità ti dà avere i dati di contatto del tuo cliente se le mail è vero, non le legge quasi più nessuno. Non è vero, l'email marketing non è morto e le mail vengono lette ancora ma vengono lette non in percentuale altissima ma come una volta. È sempre più importante però pensare che qualcuno le legge, per cui servono anche loro, soprattutto con software che costano pochissimi, a fare il lavoro di cui ti ho spiegato. È logico che non avere tutti questi dati di contatto non hai la possibilità, non avendoli, di fare tutte queste belle cosine che ti ho detto fino adesso. E sai qual è l'errore più grave delle aziende e del perché non hanno questi, non avete, non abbiamo, io non ho avuto i dati di contatto e non davo importanza alla lista, come viene chiamata in gergo, fino a pochissimo tempo fa. Il motivo è semplicemente uno, non vengono chiesti. Tu prova a andare nelle migliori catene a livello mondiale. Prendiamo Zara e prova a vedere se non ti vengono presi i dati di contatto. Ancora di più, non ti vengono presi in uscita ma ti vengono presi già all'entrata del negozio. Non avere i dati di contatto significa che ti stai autosabotando ed autodanneggiando perché non puoi difendere il tuo capitale relazionale dalle orde barbariche della concorrenza. Una concorrenza giustamente sempre più agguerrita. Concludendo, prendi i dati di contatto, prendili a mano e poi inserisci, inseriscili davvero in una lista. Manda delle mail, fatti, compra un software che possa mandare anche, possa permetterti di fare Whatsapp o marketing. costano pochissimo, ma fai in modo davvero dal cuore di essere sempre presente nella mente e nel cuore dei tuoi potenziali clienti per ricordare loro ancora una volta e come sempre perché ti hanno scelto la prima volta e cosa puoi fare per loro. Ciao ciao e buona domenica.